amici di atti sport ventiquattro bentornati nuova puntata di due metri la pallanuto vista da vicino la nostra settimana inizia dalla serie b andiamo nel girone tre un piacere tornare a parlare della water polo bari e per farlo accogliamo con immensa gioia nel nostro salotto virtuale l'attaccante della formazione pugliese alessandro battista ciao alessandro benvenuto grazie di aver accettato il nostro invito buongiorno grazie a te grazie a tutti buongiorno alessandro inizio la nostra chiacchierata dall'ultima uscita la water polo bari vince agevolmente in trasferta contro la libertas roma euro che tipo di indicazioni vi lascia il successo con i capitoli allora noi venivamo da due pareggi che ci avevano lasciato un po l'amaro in bocca perché erano possibili vittorie da lì abbiamo bisogno di una di rifarci ecco e quindi il aver vinto ci ha dato quella carica in più per la prossima partita le indicazioni del mister le abbiamo avute purtroppo a distanza perché in questo momento il mister è impegnato con la nazionale maggiore il video analista nazionale maggiore e ci ha dato indicazioni in via telematica ci siamo sentiti in video call e abbiamo avuto appunto l'opportunità di confrontarci anche con lui per affrontare al meglio la libertas roma se devi andare più nello specifico e individuare quelle che sono state le chiavi della vostra vittoria dove concentri la tua attenzione allora noi siamo una squadra giovane il nostro punto di forza il collettivo è il nuoto il mister due anni fa è arrivato a bari ci ha accolto ci ha preso perché eravamo una squadra di ragazzini alle prime armi molti under under 16 under 14 e insomma ci ha cresciuto sia a livello natatorio che a livello tecnico e le indicazioni appunto che la partita per come l'abbiamo affrontata è stata sicuramente una partita giocata di squadra è una partita messa sul nuoto molti gol sono appunto avvenuti ci sono stati appunto con controfughe concluse nel migliore dei modi con il gol che cosa vi ha detto il mister quando avete ripreso gli allenamenti avete avuto opportunità di confronto anche a distanza con lui oppure con lo staff quali sono state le considerazioni fatte all'inizio della settimana allora col mister abbiamo avuto modo di parlarne nel nel post partita eh lui ci ha seguito appunto ad acilia abbiamo potuto appunto giocare con lui in panchina eh le indicazioni che ci ha dato nel post partita sono sempre quelle insomma c'è c'è le ci sono alcune che sono le solite allora diciamo che c'è qualcosa di standard è qualcosa che varia da circostanza a circostanza sì certo le le cose standard sono sempre testa bassa e lavorare qualsiasi risultato appunto ci sia partita dopo partita eh è andato più nello specifico eh dicendoci appunto di concentrarci già per la prossima partita perché è uno scontro diretto per il vertice e andremo a scontrare appunto la pescara pala nuoto le le indicazioni appunto sono state lavorare bene lavorare di gruppo e concentrarci al meglio per appunto andare a sconfiggere l'avversario che che troveremo appunto sabato. E andiamo tra un po' sulla partita di sabato quello che è il big match del prossimo turno nel Gironi 3 ti chiedo però eh tornando alla tua frase iniziale quanto è importante per il vostro percorso aver ritrovato la vittoria dopo due pareggi consecutivi che prendo in prestito la tua espressione mi hanno dato un po' di amaro in bocca? È stata fondamentale appunto per ritrovare un po' lo spirito giusto per per affrontare la prossima partita. Noi venivamo da due pareggi quindi abbiamo lasciato qualche punto eh l'abbiamo lasciato durante questo questo percorso fino ad ora eh in questo momento mi sento di dirle che mh c'è stato c'è stato questo questa vittoria ci è servita molto per il morale. Hai detto che questa è una squadra giovane che ha iniziato il suo percorso con tanti ragazzi che erano under 16 under 18 sotto la guida di mister Baiardini secondo te questo gruppo vanta ancora margini di crescita? Assolutamente sì assolutamente sì siamo molto giovani eh abbiamo avuto da poco appunto la la fortuna di ritrovarci in squadra con già Luigi Foglio che ci sta dando molte eh molti consigli molti ci sprona essendo anche il nostro capitano ci sta guidando in questo periodo in cui il mister si trova lontano da noi e noi siamo dei ragazzi molto volenterosi il mister ci ha preso che appunto eh la la prima cosa che che ha visto in noi è stata la volontà di fare è tuttora tutt'oggi c'è ci sono margini di miglioramento. E prossimo turno c'è uno scontro diretto importantissimo però io mi permetto di dire non decisivo perché anche in caso e qui puoi fare tutti i liti scaramantici del caso di eh risultato non positivo c'è eventualmente tutto il tempo poi per poter recuperare c'è il big match casalingo contro il Pescara Pallannuoto che partita ci aspettiamo? Sarà una partita sicuramente combattutissima eh noi la metteremo molto sul punto di vista eh fisico quindi natatorio eh loro sono più esperti di noi vengono da una retrocessione dalla serie a due e quindi hanno più più esperienza nelle braccia ma noi ci faremo valere perché a livello natatorio e tecnico ci stiamo dando da fare siamo siamo pronti per per questa partita. Io ti chiedo di andare più nello specifico sulla match contro gli abruzzesi dal punto di vista tattico quali potranno essere le chiavi di questa sfida? Dove si può decidere? Sicuramente il mister ci darà accorgimenti su qualche giocatore del 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 Pescara o qualche più esperto qualche tiratore. Da lì eh noi stiamo lavorando in questa settimana per eh studiare al meglio le loro le loro tattiche il loro eh uomo più la nostra difesa eh per cui ripartire appunto e concludere al meglio la fase di attacco. Eh eh niente. Va bene siamo così al termine di questa chiacchierata. Ringrazio Alessandro Battista per essere intervenuto. Do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Alessandro. Grazie mille. Grazie. Grazie mille a voi. Grazie.